E io insegno loro che se tu ci credi davvero, i sogni prima o poi si avverano. Parli di angeli. Beh, se fosse come dice qui, nessuno si sentirà tristoso. È un mondo un po' pazzo, questo in cui noi viviamo. La luce negli occhi, quella luce che non si era vista mai. Ma l'amore vero, qui sopravvive, ti lascio andare adesso. Noi non saremo più così.